Start, 2, 1, history mission and liftoff! Non ricordo male un early access ed è un gioco che parte già dall'inizio con l'italiano quindi nessuna mod e nient'altro insomma di cui necessitiamo se non qualche mod che ormai già ci sono su tutte quelle che vi consentono di visualizzare in prima persona e di passeggiare per la città che creiamo. Una delle cose che disattiverò adesso che per me sono molto d'atmosfera sono le diciamo il momento notturno dove non abbiamo sott'occhio esattamente quello che stiamo facendo perché tutto ha una illuminazione notturna non si capisce bene quindi vediamo di disattivare il giorno notte in modo da vedere il giorno sempre e comunque adesso ok vedete che adesso è partito. Allora la domanda che mi facevo anch'io ed è il motivo per cui faccio questo video perché è un gioco che non necessita di grandi presentazioni che mi chiedevo va la pena prendere questo secondo anche se già in italiano rispetto a se si possiede già il primo capitolo? La risposta molto breve è sì perché perché il gioco è cambiato su tanti aspetti nel senso che se andiamo a vedere anche solo la creazione l'assegnazione diciamo delle case è un po' più varia nel senso che abbiamo la casa a bassa densità abbiamo le case a schiera di tipo europeo poi possiamo anche impostare la partita con stile americano e poi abbiamo le abitazioni di media densità quindi i condomini abbiamo le attività commerciali e poi avremo quelle ad alta densità ma poi anche qui avremo la possibilità di avere le abitazioni miste a negozi infatti vedete che qua al piano di sotto c'è il negozio e poi abbiamo tutte le altre quindi le industrie sono queste poi avremo poi avremo l'alta densità gli uffici e le industrie con le un pochino più diciamo che racchiude più DLC che erano usciti sul primo City Skyline ma non è finita qui perché c'è un grandissimo impatto visivo nel senso che noi possiamo andare a vedere che in lontananza c'è questa centrale a carbone con tutto quello che è l'inquinamento che c'è anche sul vecchio ma una delle altre grosse differenze non sentite musica perché l'ho disattivata perché ho avuto problemi di copyright con più giochi quindi evito la cosa che potete notare una delle prime cose che si notano è la centrale che è piccola ma in realtà non è piccola è enorme e poi ha tutte le varie espansioni per potergli aumentare la potenza e altra cosa molto interessante è che non abbiamo più bisogno di aspettare che si crei il primo edificio che poi comunica con gli altri ma in automatico la corrente viaggia già sulle strade presenti così come capita anche per l'acqua il gioco non è ottimizzatissimo io da poco non l'ho detto non l'ho mai detto nei video ma ho fatto un upgrade sono passato dalla 2080 alla 4070 ti ho rotto il porcellino e l'ho preso perché mi sono reso conto che con alcuni giochi tipo Alan Wake 2 girava male o perlomeno dovevo fare un compromesso troppo alto quindi ho deciso di fare l'upgrade di questa scheda video in attesa poi l'anno prossimo magari del resto del pc e il gioco non è ottimizzatissimo perché ho dovuto attivare anche questa la risoluzione dinamica il DRS lì è migliorato parecchio però prima lo scattino non scattava non andava male però c'era magari quando improvvisamente andavo a zoomare faceva lo scattino che dava un po' fastidio altra cosa molto bella che è stata aggiunta è vedere l'evoluzione degli edifici cioè praticamente avete la gru che costruisce e altra cosa che mi incentiva io sono stato qua un attimo fa a fare questa modifica del terreno con il badile qui perché tra queste case c'era questa fastidiosa cunetta e quindi non vi costa nulla la potete abbassare fino al livello del terreno quindi potete andare a modificare esteticamente la città in modo da renderla più bella ma la parte più impressionante più interessante di questo titolo è la generazione delle persone dell'intelligenza artificiale nel senso che noi adesso abbiamo eliminato la notte sono le 21 in realtà e le persone sono a casa tranne quelle che fanno il turno di notte infatti andando su questa persona noi possiamo vedere tutto c'era anche nel vecchio capitolo ma è stata posta una maggiore cura in questa gestione perché questa persona sta camminando, sta facendo la sua vita e ha la sua routine ha il suo lavoro, nel suo posto di lavoro, ha la sua automobile, ha i suoi familiari e i suoi animali domestici che cosa vuol dire questo? E questo è un aspetto molto affascinante perché sta tornando a casa, sta andando a fare la spesa, abita qui magari io posso cliccare e posso andare a vedere dove abita e vedere la sua abitazione posso vedere le abitazioni, vedere i nuclei familiari quante sono ancora sfitte, quante invece sono occupate ma la cosa interessante è che se questa persona abita qui ma ha la necessità di fare la spesa qui esempio, questo vende sistemi elettronici ma va bene i negozi hanno i loro parcheggi quindi sono molto belli più belli rispetto a quelli passati infatti la gente parcheggia qui ma se la gente che abita qui ha effettivamente un problema perché va a fare la spesa verso sera dopo il lavoro e la spesa e gli edifici commerciali sono qui c'è l'ingorgo e l'ingorgo provoca rumori, fastidio a chi abita nei dintorni e inquinamento ovviamente rallenta tutte le strade è stato posto un grande focus sulle strade infatti adesso vabbè si possono dare vabbè si poteva già fare prima i nomi alle vie ma settare subito i vari parametri vedete che poi sotto ogni strada ci sono i condotti in automatico di elettricità e di acqua e dell'altro che non so ma poi le strade, i ponti così sono ampiamente configurabili ed è una cosa bellissima perché io ho visto dei video su Twitch di gente che costruiva il mega svincolone costruendo a mano i vari segmenti si faceva anche nel primo ma ora ha più soddisfazione perché effettivamente vediamo un'evoluzione dell'intelligenza artificiale delle varie persone in questo caso qui c'è in corso un'emergenza sta succedendo qualcosa credo non so cosa ci sono gli eventi poi ci sono la ricchezza dell'unità abitativa in miseria in realtà vedete che questi sono ricchi ma qua sono in miseria quindi può andare anche male l'edificio può andare male l'attività commerciale il lavoro delle persone che poi possono anche abbandonare la casa cioè c'è tutta questa gestione questo su cosa grava? grava sulla CPU, sulla scheda video, su tante cose perché più persone ci sono e ogni persona effettivamente esiste cammina e si sposta nella città quando parleremo di 300.000 abitanti parleremo di un carico sicuramente maggiore sulla CPU e sulle altre cose chiedo scusa qua abbiamo il cimitero dove abbiamo un'efficienza ottima 12 impiegati abbiamo solo 8 deceduti finora che poi andranno a riempire tutto questo cimitero potremmo aggiungere anche il mausoleo per le persone importanti addirittura negli edifici distintivi possiamo aggiungere anche la casa del classico VIP della Rockstar quindi andare a creare un po' di interesse io adesso ho messo questo la villa della Popstar l'ho costruito da un benessere alla regione circostante e i residenti sono 5 e sono questi che sono benestanti di conseguenza perché vengono prese ovviamente da gente molto benestante quindi è un'ottima villa questa molto carina ha un'auto e quest'auto appartiene alla famiglia Poli magari è il calciatore non lo so ce ne saranno da costruire tanti altri e poi potremmo andare a prendere più facilmente rispetto agli altri capitoli le regioni non posso ancora farlo credo le regioni circostanti quindi acquistare questo quadrato questo quadrato questo quadrato è andare a potenziare collegarci con la linea ferroviaria potremmo fare un sacco di altre cose altra cosa che a tanti non piaceva del primo capitolo era l'obbligo di proseguire con una routine preimpostata cioè io non posso costruire determinate cose fino a che non aggiungo tot di popolazione in questo caso c'è la modalità di partita senza ovviamente in quel caso gli obiettivi sbloccabili gli achievement ma possiamo partire già con tutto ovviamente se piazziamo una centrale nucleare subito ha dei costi abbastanza elevati e probabilmente verrà gestita male qua abbiamo stazione di pompaggio dall'acqua lo sto facendo vedete adesso c'è l'asservatorio idrico una delle novità è stata aggiunta anche la possibilità di prendere l'acqua dalla falda quindi possiamo prenderla dai fiumi ma anche dalle falde e ci sono delle falde adesso che non so dove farvi vedere questo e vedete che qua c'è la falda quindi io potrei prendere l'acqua dalle falde e quindi posso posizionarla dove voglio ovviamente qua bisognerà collegarla con una strada e così via e poi dovremmo gestire appunto anche gli scarichi e gli scarichi anche questi sono molto importanti perché generano questo inquinamento quindi potremmo andare a perfezionare dopo il trattamento dei liquami con un depuratore stessa cosa ai rifiuti e stessa cosa poi potremmo mettere la metropolitana cioè è il paradiso dei gestionali per chi ama i city builder in questo caso vedete che a me non piace ed è una critica che gli hanno fatto in tanti che gli edifici non si adattano all'inclinazione quindi tante volte creano dei terrazzamenti inutili o magari sono in pendenza e ci sono dei carichi messi in pendenza totalmente in pendenza quindi avete questo bancale su questa salita che non ha senso di esistere bellissima l'ombra della gru che sta costruendo questo nuovo edificio quindi io in questo caso posso andare a costo zero e appiattire la zona ma ovviamente è tutto in dislivello quindi bisognerà cioè il gioco vi spinge anche a pianificare non solo piazzare a caso ma magari costruire una strada quindi come faccio in questo caso è del classico gioco dove voi costruite vi stufate e ricominciate con una logica una consapevolezza diversa quindi io adesso posso andare a fare così e vedete che io sono un po' in dislivello si ha ancora qualche incertezza il gioco ma va bene e poi colleghiamo tutte le strade insomma e poi posso andare a creare magari non lo so voglio spianare questa strada qui spiano questo perché voglio andare a creare un un percorso qua dietro il cimitero magari poi espanderlo lo farà in automatico il gioco però io del cimitero ad esempio posso uscire da questa modalità seleziono cimitero posso piazzare questo vedete che è bruttina come piazzata dovrei andare prima magari estendendo un po' il raggio e la robustezza andare a spianare di più questa zona cioè che poi devo ancora imparare bene come si usa sto affare questo è bruttissimo da vedere però non ci costa nulla quindi lo possiamo fare come vogliamo devo imparare come funziona questo affare sì devo partire praticamente dal cimitero dalla zona piatta e andare ad appiattirla è brutta perché è una zona assolutamente in depressione quindi non è bella questa da vedere però mi permette in questo caso cliccando poi sul cimitero andare a piazzare questa che poi ha il suo perché prende il suo aspetto però mi immagino anche una persona che arriva qui a questo mausoleo intorno a queste montagne qui in fondo si vede tutta l'industria insomma è qui una zona ancora cioè è stato posto parecchia cura in tutte queste finezze diciamo decorative degli edifici ovviamente la città sta aumentando stiamo andando verso il primo i primi mille abitanti e abbiamo tutta la lo sviluppo la progressione delle varie cose man mano saliremo di livello quindi noi adesso siamo a livello 2 a livello 3 sbloccheremo per quanto riguarda le strade le autostrade grandi strade e le aree di parcheggio molto interessanti sbloccheremo la centrale a gas posso già prenderla questa la geotermica l'idroelettrica molto interessante e poi così via andremo anche a prendere il crematorio che forse abbiamo già perché poi abbiamo punti sviluppo da spendere anche quindi non è uno sblocco automatico ma alcune cose le andremo a sbloccare spendendo i punti di ricerca ovviamente ci sono gli achievement che andiamo a sbloccare che non avremo qualora noi decidessimo di iniziare una partita da zero con già tutto sbloccato che potrebbe dare soddisfazione ma dà soddisfazione anche questa progressione qui ovviamente avendo poco a disposizione siamo costretti ad iniziare in un certo modo creando un villaggetto ma nessuna città è nata grossa insomma a parte qualche città orientale e quindi questa è già delineata come zona industriale comunque stavano costruendo prima qui vicino al cimitero queste zone cui credo no mi confondo io comunque dovrebbero aver costruito e poi ovviamente c'è sempre questa richiesta cioè praticamente ci viene detto guarda che c'è bisogno ancora di tanta industria quindi noi andiamo a piazzare l'industria dove è possibile piazzarla quindi piazziamo industria anche qui questo slider scende ma non mi piace vorrei mettere una stradina qui che ovviamente butterà fuori eliminerà qualche casa metterà qualche disappunto però posso piazzare così e fare una zona industriale così e poi io vado e metto la zona industriale nelle varie zone finché quello slider lì cala quindi ok siamo praticamente a zero ora c'è una gran un gran bisogno di negozi quindi i negozi magari li piazziamo qua c'è una zona abbastanza vivibile e i negozi vicino al cimitero non è una grande idea questa è una zona pacifica dovrei magari metterli qui davanti e vedete che anche qui lo slider sta scendendo perché pian piano la gente andrà ad acquistare che poi ho fatto una gran cavolata perché ho piazzato la costruzione qui ma qui non c'è non è possibile cioè qua mi segna che non che c'è meno richiesta commerciale ma io ho messo in vendita delle zone non voglio vedere se riesco ad alzare un pochino il livello dell'acqua e vedere cosa succede no anche meno anche meno anche meno 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 aspetta abbassiamo un po' qua voglio abbassare questo sì ok è abbastanza intuitiva una cosa però vedete sto abbassando e sto creando spazio per costruire no vabbè lo stanno facendo comunque si stanno terrazzando loro sopra il mare è una cosa più economica del mondo probabilmente ma sto andando a crearmi la mia zona questa cosa può portare anche problemi perché se creiamo problemi al letto del fiume potrebbe zondare potrebbe essere un gran bel problema perché magari l'acqua si si allarga e va ad allagare altre zone da un'altra parte insomma quindi qui bisogna fare attenzione vale 49 euro allora se avete il primo capitolo beh lo potete giocare da game pass come lo sto giocando anch'io perché non è arrivato nessun codice insomma quindi io avevo game pass quindi lo sto giocando se avete amato la follia e volete un'esperienza un pochino diversa un pochino più bella graficamente magari e avete anche un buon pc lo potete valutare se non avete il primo capitolo iniziate direttamente dal secondo ve lo dico già come opinione mia insomma ecco qua le industrie sono in costruzione verrà un'industria di legname poi più avanti potremo decidere anche che cosa mettere per uno per l'altro insomma quindi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo city skyline se vi è piaciuto lo avete già visto giocare lo avete acquistato o eravate tentati il video magari non vi ha convinto vi ha convinto fatemi sapere sotto nei commenti alla prossima e ciao ciao